la notte la notte la notte la notte la notte l'ha preparato un numero per fare la telefonata no ma perchè ci ha magari la telefonata no? che accetto prima si fa la telefonata no e poi si manda lì il riscatto è una cosa se quello ti arrimisci perché no, tutto sta ciao buonasera come stai? ma io chiesto com'è puoi coprire collare legano per si ferire ma come c'è che cosa? tu comprava collare prezzato ma fatti io non comprare niente vatti metti un cretino mamma mia voi non ci raccomandai io sono due pezzi di cretino io non cretino, io lavoro ma non cretino io in Marocco non compramo non compramo niente tu niente moglieri no niente moglieri ma guarda che bello non ti dai moglieri io in Marocco 5 moglieri io poveri c'è io ricco tinta moglieri tinta moglieri ora faccio cosa peraltro tu dire io capiscio tu non devi comprare? no niente non c'è quale bianco quale bianco sei niente tu vuoi ricordare quale bianco cosa vuoi non c'è non c'è non c'è niente ma che scherzo vuole questo che viene proprio proprio in giustizia in mezzo a strurare c'è la testa no 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 ma vuole bianco vuole bianco io capisco che volevo un signor pane bianco che ti piace ma guarda qua fatti c'è un mezzo cucciolato da una cucina c'è e non ti ha mangiato ma figlio cioè ora vuoi figlio eh tu capo tu vuoi comprare pistoni ma che sei pazzo vuole nescia prima che ti micchi al tombolone vuoi che fai poco munita mattina attacchi di lana mattina te caccia munito che uomo pistole oh ci mancava solo questo ci mancava solo questo io allora meglio così nella cucina c'è la panna vai tu mangiavo non trova figlio ma io credi non da assoluta che sta facendo uniscia sapere che sta facendo io credi e non ce l'ha come nè altro e questo figlio mi fece chianare un marocchino mi fece chianare ma questo è bando come si può dire la bando da questo uniscia sapere come si può dire mancava bando documento potremmo fare il camone mi lasse tante pugni e la testa può vedere se ne esce un germello di fuori di fuori di fuori non fare così io non fare così scendo da sotto e un piccolo di narizzo io vedo scendo da sotto oi andavo davanti mezzo che sta facendo un luciano da sotto non l'hai visto come non l'hai visto non l'hai visto non l'hai visto posto no a merda nisci a merda? a paloma va e tu hai la sestire eh? che ti disse io? di pedenare ti disse pedenare e tu sei che vai ancora a pedenare capisci che è a pedenare a pedenare ora ci vai io a ungio a un po' a un po' e a pedenare ma che capisco da una mano? che capisco? pedenare io ci ho visto di pedenare ma io c'ho detto tu di pedenare ma magari qualsiasi ci metta io ci ho detto di pedenare ma non di pedenare è una madre pedenare pedenare non è la stessa cosa, non è perché ti fai a piedi l'anze camora mi dà tante pugna nella testa, mi voglisse nascere questo cembello di fuori di fuori mi voglisse ma non farà così, non farà così, guarda cosa che capo di uno sogno? cosa che capo di uno sogno a mia perché sogno un cretino ma non farà così che lo fai ammalare il cuore ma quello è il cuore, quello è il cuore, caccia di ammalare su un figo un cuore Mimì, dice mio papà, siccome ti ricorda di aspettare che aveva i ammalrutti, se potete aspettare più non ci vado a fare insieme perché non ci vogliono usare, quindi la risposta va a fare insieme oh signor Uzzubiede, come ci buttavo in questo manacomio come ci buttavo dove andavo a fare il paese? qua usano i cani, poi c'è un po' vicino ci dice il papà e che c'è il tuo padre? ci dice ci dice che ho usato il mio ufficio e non potevamo aspettare io per pensare un gesto ci dice che ora si è giusto a amma, uberi e buonanotte uberi? a amma? si, il mio figlio, uberi a amma, la stessa cosa ci dice che è sicura e poi già se la saluta va vai li caggiamo li caggiamo mi vede, non pazzire mi vede e questo perché non aveva sapere nulla? lo sai? che comincia ad avere qualche dubbio ma qual'è il dubbio? qual'è il dubbio? è sicuro? certo è il matematico che cosa? che noi andiamo a finire in galera prima di fare qualcosa ah panna come facevi a fare a me? era così via del tranquillo senza pensieri oh, ma come sta dicendo tu pare che questa bella tranquillata la salva per l'auce a me non mi pare se si ignorava la ragione magari fosse io è che a me a certe volte mi mangia un'asa e non voleste sapere niente voleste sapere solo con il mio di un cretino di suo figlio non voleste sapere solo chi solo chi è il suo mi senti ho fatto un ciotto pericone pronta per la ragione piatta morta oh, bella macchia bella macchia oh, ma ne voglio un miecchicene un'a stato, ah un'a stato che ti dici? parla, non è male che ti dici? che ti dici? parla che ti dici? 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 io, io, io ho visto un cinema ora ti faccio vedere l'operità va sfoglita va sfoglita ma lei vede tutta esse barbatore se parla un bestia il boom a borraccia un'a stato fatto non è stato fatto non è stato fatto ah ma è stato fatto ma quanto sogno grechino una banda deficiente ma in cui sei arrivato a cercare il calentrino oh è bestia io che mi ci misi sogno un cretino dici di mille che sogno un cretino se tanto ci tiene sei cretino cento volte mille volte dici di mille che sogno un cretino si, si sei un cretino oh 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 solo un barrate perchè ti urchio ti urchio ti urchio eh l'altra volta apriare se mi vuoi mangiare che facevo? eh va bene va cento e uno cento un dei due prima che parla poi ci scavare la testa come una tazzamina eh ti è scazzata l'operazione X da 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 e che fare a questa cosa? non è più che ha la paloma posala, posala, posala che hai certo che c'è un cervello come un buonnicino Camina, Camina, Camina che è morto, Camina Camina